Cerca un anno e mezzo fa ho creato la piattaforma Toscana My Love con l'intento di raccontare il meglio di questo paradiso terrestre che è la Toscana, la mia regione raccontando storie, luoghi, leggende e prelibatezze no gastronomiche ho il progetto sul consiglio di aziende e follower se è evoluto da ora in poi non racconterò solo la storia dei luoghi della mia regione ma selezionerò e recensirò hotel, ristoranti, locali, aziende e vinicole ed è per questa ragione che ho cambiato il nome da Toscana My Love a My Toscani mai è la parola chiave di questa nuova fase mai come la mia regione, la mia visione, la selezione del meglio del made in Toscani visto attraverso i miei occhiali tondi, magici facendo tesoro di 25 anni di lavoro nel settore del turismo vi racconterò il bello e il buono della culla del nascimento con lo stesso spirito con cui Dante e Michelangelo si facevano ispirare dalla creatività anche io proverò a farmi inebriare dalle più sorprendenti bellezze e bontà le aziende recensite verranno inoltre inserite nella mia guida con oltre 700 indirizzi selezionati per chi ama una Toscana di charmi, di classe, di stile location dopo location vi consiglio dove andare a dormire, a mangiare, ad acquistare, a degustare del resto è quello che ho sempre fatto con tanti ospiti VIP che sono venuti qui in Toscana sarò la vostra guida a 5 stelle anzi a 5 cappelli siete pronti? questa volta non sarete voi a salire a bordo dei miei viaggi ma sarò io ad accompagnarvi nei vostri www. someplace visita 450 ladichoni polie pazienti pi 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 Grazie a tutti.